Vi saluto, miei cari. Sono Kryon, del Servizio Magnetico. L'Armageddon sta arrivando? Questa parola vi ha stupiti? Siete interessati? Vi darò una risposta sintetica tra un momento. Ma prima di tutto, andiamo ad analizzare questa parola e osserviamo qualcosa che è molto interessante. Vi abbiamo detto per molti anni che gli esseri umani in un'energia più oscura sono sempre stati motivati, spinti da cose drammatiche, dalla previsione di distruzione, perché la vecchia energia più oscura di questo pianeta ha sempre incoraggiato questo. E se vi fate delle domande a riguardo, allora andiamo ad analizzare l'Armageddon. Quanti film, quante storie, libri, serie sono state sviluppate attorno a questo evento, potremmo dire, questa parola? Anche usando questa parola per il titolo del film o per la conseguenza di qualcosa? Questo è un tema molto comune che gli esseri umani hanno sviluppato e a cui sono andati ripetutamente. Eppure, questa parola, che proviene dalle vostre sacre scritture, è stata menzionata solamente un'unica volta. ed è interessante il fatto che quell'unica volta sia stata menzionata per indicare una rivelazione all'uomo Giovanni. Come chiamiamo il fatto che lo spirito possa parlare ad una persona? Oggi lo chiamiamo canalizzazione. Ma se all'epoca aveste parlato di canalizzazione, probabilmente sareste stati eliminati. è stata menzionata un'unica volta e questa parola non stava ad indicare un evento, ma la descrizione di un luogo. E quello che sarebbe dovuto accadere in questo luogo è questo, la battaglia finale tra il bene e il male. L'Armageddon sta arrivando. La risposta che vi darò e di cui discuteremo è no. Perché voi ci siete adesso. È già arrivato. Miei cari, vi ripeto di nuovo che i messaggi dallo Spirito, dalla sorgente creatrice, da Dio, in qualunque modo vogliate chiamarlo, che vengono dati agli esseri umani, vengono spesso trasmessi sotto forma di metafore. Ed è sempre stato così, anche nelle Sacre Scritture e negli scritti dei profeti. Perché voi potete ricevere questo solo nelle quattro dimensioni, che è la dimensione in cui vivete, in cui pensate, in cui la vostra logica opera. E quando lo Spirito vi trasmette questi messaggi, c'è molto di più dentro. Contengono il linguaggio della multidimensionalità, dei potenziali, e tutto questo dovrà poi essere ridotto a ciò che potete comprendere, a ciò che può essere spiegato in modo da poterlo vedere, visualizzare. Sarebbe come tornare indietro di 100 anni e parlare a qualcuno del vostro Wi-Fi. Vi chiederebbe, cos'è? Beh, è qualcosa che riguarda l'Internet. E cos'è Internet? È qualcosa che è stato sviluppato per permetterci di ricevere cose sui nostri dispositivi che portiamo con noi e che si chiamano telefoni che sono intelligenti. Cos'è? È un computer. E cos'è? Siamo lontani almeno quattro livelli dalla realtà che avevano 100 anni fa. Sarebbe impossibile parlare la loro lingua. E dunque, quello che si potrebbe fare è utilizzare dei simboli, utilizzare parole e cose che essi possono comprendere. Quando lo Spirito vi parla, molto spesso, è proprio così che fa. L'Armageddon è la descrizione della battaglia finale su questa terra e il luogo in cui sarebbe dovuto accadere ed è una metafora. La metafora per la terra, miei cari. E la battaglia finale tra bene e male è la descrizione del tempo finale in cui questa terra si riunirà e dovrà affrontare l'energia di luce e oscurità. Non vi ricorda forse i messaggi che io vi ho dato per tanto tempo? Voi vi trovate in esso. Questo Armageddon, questa parola così spaventosa che spesso ha indicato la fine del mondo però non era questo che stava ad indicare. È la battaglia finale tra bene e male. Cosa ci fa l'essere umano con questo messaggio una volta che l'ha ricevuto? Cosa fece Giovanni quando lo sentì? Pensò ad angeli e demoni, naturalmente, al paradiso e la terra perché è così che un essere umano vede le cose. Una battaglia finale? Beh, sarà sicuramente la fine di tutto. E invece io vi ho detto che è l'inizio di tutto. Questa battaglia finale significa la fine di questo tipo di conflitti paese contro paese e l'utilizzo di armi di distruzione di massa e la minaccia di utilizzarli. Questa è forse l'ultima volta che vedete qualcosa del genere. E pian piano questo pianeta deciderà che è qualcosa di inaccettabile a tal punto che chiunque lo faccia venga escluso dai commerci e dagli approvvigionamenti e nessun paese arriverà più a considerarla una possibilità. Perché dovrebbe farlo quando c'è una coscienza che sa di non averne bisogno? Immaginate un pianeta in cui tutti vivano insieme in pace. La vostra idea, però, di pace su questo pianeta è più simile a quella che trovate in un libro di fiabe. È una pace in cui tutti vivono allo stesso modo. Tutti sono innamorati di tutti e andate avanti cantando canzoni e tenendovi le mani. Ma voi potete avere una pace sulla Terra, miei cari, pur continuando ad avere diversi punti di vista, diverse culture, diversi modi di vivere la vita o di adorare Dio. Tutto questo è possibile in un pianeta in pace, in cui le persone non si uccidono e non vanno più in guerra. Ci saranno ancora dispute? Sì. Ma questo è l'inizio di un paradigma che non avete mai visto. Un paradigma di cui parleremo molte volte nelle canalizzazioni. Un paradigma in cui la luce sta incominciando a vincere sull'oscurità a tal punto che persino il pensiero umano, quella che chiamate natura umana, sta cambiando. Cosa vogliono le famiglie? Cosa vogliono i paesi? Quello che vogliono è le risorse della Terra per tutti e non avrete più bisogno delle stesse risorse perché stanno arrivando delle invenzioni e ci saranno scambi commerciali portati avanti con integrità. Un mondo in cui avrete ogni tipo di partner commerciale e ogni tipo di negoziazione. E in questo naturalmente ci saranno delle dispute per un po' di tempo finché non si appianeranno ma l'idea di andare in guerra per le risorse non ci sarà più. L'idea di fare una guerra per i sistemi di credenza per decidere chi ha ragione o no nell'adorazione del Creatore sarà vista come disfunzionale e anche un po' stupida. Tutto questo sta arrivando miei cari. È questo l'Armageddon e vi ci trovate dentro. L'Armageddon l'ultima battaglia non è solo i conflitti che vedete oggi sta raddrizzando la disfunzionalità della coscienza. Nella cultura del mio partner sta accadendo qualcosa che lui non ha mai visto prima. i partiti politici non hanno solo idee opposte ma sono proprio arrabbiati l'uno con l'altro e anche i cittadini adesso sono arrabbiati l'uno con l'altro a causa di un pensiero economico diverso. Ed ecco a cosa si riduce tutto questo. Ha una divisione e finalmente state incominciando a vedere quello che è sempre stato lì. Quando accendete la luce e vedete tutto lo sporco che c'è questo vi fa arrabbiare ma vi abbiamo detto che è proprio questo l'indicatore del fatto che vi state avvicinando alla fine dei tempi. Ora vi trovate nella fine dei tempi. Quando il mio partner ha pubblicato le prime canalizzazioni che ho dato nei primissimi anni 90 gli diede il titolo del libro e lui disse no è troppo spaventoso le persone non capiranno penseranno che si tratta di un libro che parla della distruzione perché il titolo era I tempi finali e io lo istruì molto delicatamente gli dissi in che modo lo indicheresti il passaggio da un tempo di guerra e odio e dolore ad un tempo di comprensione comprensione e integrità un tempo di saggezza in cui siete un po' più intelligenti e meno disfunzionali un tempo in cui ci saranno più risate e gioia lui ci pensò un momento e poi io dissi i tempi finali significa la fine di un vecchio tempo miei cari è questo che state vedendo adesso questo è il messaggio di Crayon e lo è sempre stato il fatto che la bellezza dentro l'essere umano sta incominciando ad essere svelata e vista e ci sarà un giorno in cui vi guarderete indietro guarderete alla politica che sta accadendo oggi farete un respiro e direte beh era davvero un vecchio paradigma quello potreste chiedervi è mai possibile che i partiti politici smettano di fare quello che stanno facendo adesso la risposta è che devono farlo e lo faranno per arrivare ad una soluzione che non è stata ancora mostrata in cui potranno essere d'accordo sul fatto di non essere d'accordo e lavorare insieme per le migliori idee per entrambi per creare qualcosa di buono ed era proprio questo che rappresentava la Costituzione e i governi eppure non ce l'avete questo perché la battaglia tra luce e oscurità si basa sull'avidità sulla disfunzionalità che si sta mostrando e questo fa arrabbiare tantissime persone ma è solo una parte della battaglia poi ci sono quelli che stanno effettivamente combattendo e tutto questo vi porta a credere che il mondo sia condannato oppure forse le cose si stanno semplicemente raddrezzando nel 1989 quando arrivai vi dissi che non ci sarebbe stato l'armageddon per come lo percepite voi ovvero come una battaglia finale tra bene e male e la fine della terra ma invece ci sarebbe stato un cambiamento di coscienza e quella battaglia finale come vi ho detto ci sarebbe stata tra la luce e l'oscurità tra l'alta e la bassa coscienza e voi adesso vi trovate proprio in mezzo a tutto questo proprio come vi dissi questa è una nuova terra voi siete delle anime bellissime e magnifiche e le anime antiche del pianeta solleveranno tutto il resto diffondendo la loro luce in un modo che potrete effettivamente vedere vi dirò di nuovo che la storia non si ripete quando siete su un nuovo percorso e voi ci siete sono Crayon innamorato di tutti voi e così è